E quando parlo del controllo, e anche del controllo e dell'occupazione che si sta facendo della radio e della televisione e degli organi di informazione, vorrei anche condividere con voi un'informazione che è arrivata pochi minuti fa. Questa sera in una televisione era previsto che uno scrittore che si chiama Antonio Scurati facesse un monologo in televisione per ricordare il 25 aprile e di pochi minuti fa è arrivata la notizia che, consentitemi il gioco di parole, che lo scrittore Antonio Scurati è stato oscurato perché la trasmissione che doveva fare è stata annullata ed è stata cancellata. Capite cosa vuol dire? Di questo stiamo parlando. E allora noi oggi qui in questa piazza non stiamo solo avanzando delle proposte, difendendo un punto di vista, proponendo un'idea di paese. No, stiamo difendendo la nostra democrazia e stiamo praticando la democrazia antifascista nata dalla resistenza e prevista dalla nostra Costituzione.